Beltrame Irwin, sono responsabile commerciale per il settore automotive in General Gas. General Gas è un'azienda storica, partner ufficiale di Honeywell per la distribuzione dei flui di refrigeranti in Italia. Un'azienda caratterizzata da un forte know-how tecnico che permette di operare nella refrigerazione, nel condizionamento civile, industriale e veicolare. La sinergia con Assori Cambi è iniziata da poco, a luglio, in piena stagione e con temperature favorevoli per il nostro settore e quindi siamo contenti di avere iniziato già a operare un po' su tutto il territorio nazionale. Immagino un futuro positivo, in crescita e sicuramente regolamentato e controllato rispetto all'anno in corso. Ci sono solamente due prodotti da gestire per quanto riguarda il condizionamento e sono il 134 da un lato che sta vivendo il sistema delle quote e quindi una graduale riduzione delle quantità disponibili in Europa. Dove la scelta del fornitore è importante perché si deve basare su programmi di lavoro che vanno al di là della capacità della sola fornitura del prodotto. Mentre per quanto riguarda l'1234 è un prodotto innovativo, a basso impatto ambientale come noto e seguirà una dinamica di distribuzione completamente diversa dal primo in quanto la possibilità di stoccaggio da parte dei distributori è ridotta. Un altro aspetto importante da non sottovalutare è che questa nuova tecnologia per la natura del refrigerante fa sì che il prodotto possa disgregarsi in breve tempo nell'ambiente. Sicuramente a vantaggio dell'ecologia però con delle criticità che vanno supportate con un'addittivazione importante per mantenere nel tempo e costante la performance del sistema. Abbiamo ancora pochi dati da analizzare e abbiamo avuto poche occasioni di incontro. Di certo posso dire che è stato un inizio fluido, organizzato e dove ho percepito la volontà di fare bene in un contesto di gruppo.